Ciao, se stai guardando questo video ti sei bloccato a un livello, questo livello, il livello dei puntini. Non ti darò spoiler in questo video, non è quello il senso, però ogni giorno qualcuno mi scrive su questo livello. Hai capito che cos'è, l'hai convertito, l'hai messo sull'app e hai visto il pop up, ma dai numeri non c'è nient'altro che possa fare, credimi. A questo punto tutto quello che devi fare è lasciare il livello. Fai un altro mondo, fai un altro livello, fai due spaghetti allo scoglio con un pizzico di vino bianco, ci sta sempre. Quanto mi mancano dei spaghetti allo scoglio. Comunque, fai qualsiasi altra cosa, se chiedi aiuto ti rovinano il livello, il livello passa da difficilissimo a facilissimo, non ne vale la pena. Lascialo lì e a un certo punto capirai e amerai questo livello quanto lo amo io. Magari mi mandi una mail perché io direi me, ma ti piacerebbe il livello, ok? Credimi. Se poi vuoi, mi scrivi e te lo rovino. Ma non fartelo rovinare, è un livello stupendo. Buona fortuna. Grazie. Grazie.